Il spirito di battaglia è stata una partita dura, abbiamo trovato tante difficoltà, visto che loro ogni palla mezza-mezza l'hanno buttata in aria e sono una squadra molto alta, molto fisica, per quello ci hanno messo anche in difficoltà. Però poi, secondo me alla lunga, si è visto che siamo superiore su tutti i punti di vista e meritatamente abbiamo votato a casa la vittoria. Tu hai portato su parecchi palloni, hai fatto tante iniziative individuali e in qualche modo ti tenevano sott'occhio perché aveva il domanda del quattroesimo ancora hai sentito i tacchetti della passata. È normale in una partita prendersi qualche fallo, come già detto era una partita molto fisica, però abbiamo retto botta e per quello siamo veramente contenti. Abbiamo fatto vedere a tutti quanti che anche quelli che giocano un po' di meno possono giocare tranquillamente, per quello è una vittoria importantissima che dà anche tanto morale per la partita di Coppa Italia. Avete messo un po' tutti che ha giocato in difficoltà, ma quindi sono scelto per mercoledì perché ha un po' di imbarazzo vista anche questa risposta del campo. Sì, ogni tanto è scontato dire che siamo 24 titolari e tutto quanto, però lo dimostriamo anche in campo. L'ha fatto vedere anche Pop parando in rigore, per quello sono contento anche per lui e sono contento soprattutto per quelli che non hanno trovato spazio. Quindi, insomma, si va in 24, a parte li hai cercati a affrontare questa vita erovenese. Infatti abbiamo bisogno di tutti, è una partita importantissima, vogliamo prendere questo trofeo e alzarlo, per quello io personalmente non vedo l'ora. Grazie a tutti.